good morning si qui sono durante le dieci e mezza come dico in questi casi certo una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's may 29 2022 and it's a sunday is nipples uh clear clear morning in this moment the soft wind beh piacevole and 78 85 around 26 celsius and this means that it's that day really 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 soft like this days in this period and also over because it seems more a summer climate and spring climate d'altra parte come dico sempre andando verso giugno e questo è anche normale as a ricardo del video tutto stato nel falduit oggi potrei anche scrivere in descrizione perché non so se ho molto da dire ma vediamo comunque in the case is always separate from this so eyes open if you are interested anyway as you and you will just see from the window you can see only the green roller shooter in these days because come già detto ieri questi tempi l'apriamo e perché fa caldo e far passare l'aria quindi not in the sky you can you can you can't see the sky but i assicuro ti assicuro vi assicuro che today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualche ora almeno essendo già mi siferisco sempre a tutti gli amici americani che abbiamo un orario come sapete completamente diverso per quanto riguarda la temperatura di oggi pomeriggio credo potrà anche salire a vetri ma non siamo mai dei manchi su questo ma comunque buon trend anche chi era così anche se nel pomeriggio si è un po nuvolato anche oggi vedo un po di nuvola in realtà mentre questo su e speriamo che non peggiori ma non credo poi aggiornerò nei rapporti domani in descrizione per cui said this over on the mythical window with the orange red the blue the water curtain behind me and it's a ring roller shooter behind me visible near me and finally from a mythical keyboard amatic x 640 ipg ipg 625 eh va great the immundo people follow the channel riporsi un saluto davvero a tutti indolso I hope you will have a great breakfast se la farò da poco al mio stomaco pronto ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo questo sarebbe tutto da questa parte no che non ci consoliamo sempre ma per me quando il tempo è così mi consola ancora di più d'altra parte le due parole consolazione che in italiano fanno anche lì ma I'll see you in the video to see if I do it or tomorrow